Oh ma cosa fai? Tu vai via la torta, vai via, vai via, vai via, è tutta mia Allora, signori non litigate! Come vi permettete! La mangio io, toh, ok, perfetto Allora, eh, fra i due litiganti il terzo gode, tanto Ciao pesce, come stai? Allora, praticamente oggi c'è un... Allora, dovete sapere che io gli ho detto di mettere questa skin, ma lui non la voleva mettere, no? Perché dice, no, è un pesce, però adesso ti terrai il pesce per sempre, per sempre E oggi, esatto, questa è una reference particolare Comunque, oggi dobbiamo scavare i diamanti, quindi toh, tieni il piccone in diamante E tieni anche tu il piccone in diamante, sì E tieni anche le carote, e anche tu le carote Perché queste qua ci serviranno per sopravvivere E poi alla fine dovremo combattere E Mario, ci sentiamo fra poco, io e Breed Laflea Ci dobbiamo spostare un attimo, perché gli devo dire una cosa in privato In totale confidenzialità Ciao Ok, perfetto Breed, vieni un attimo La space, che vieni Gli ho scritto, vienu, ma che caspita Ah, raga, vi devo dire una cosa veramente pazzesca Allora, Breed, ciao, sei entrato nella stanza Tu non potrai parlare, purtroppo Però io so che tu mi hai fatto il plugin Bello, 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 bello Ok? È partito Mario, vero? Sì, è partito Molto bene Praticamente Ok, mi stai whisperando Bravo mio amico stupido No, 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 capito Ok, però devo mettere torce Se no non si vede un cappero di niente Praticamente Questo plugin So che se io lo faccio E mi darà i diamanti Oh, non vedo l'ora di farlo Perché adesso così facciamo lo scherzo Allo stupidino di Mario Praticamente faccio Slash, diamante Hack Hack Dovrebbe essere Giusto? Com'è? Ho stampato un diamante Ma che caspita Oh, Breed Perché c'è? Perché ho un foglio che si chiama diamante? Scusa, 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 scusa Non è possibile? No Ho stampato un altro diamante Breed Che caspita è sta roba? Cosa hai fatto? Breed Brutto stupido Ma ti sembra? Cioè, ma io ti dico di costruire un plugin E tu mi costruisci? Eh, cavolo sto cavolo Mi hai costruito Mi hai dato dei fogli Che si chiamano diamante E adesso io che caspita gli dico a sto qua? Adesso che dobbiamo combattere Che non troveremo mai dei diamanti, eh? Cosa gli dico? Stupilino Guarda, io ti sto detestando Ti direi anche molto altro Ma non posso Allora, stavo dicendo Scusa Mario È che mi sono veramente nervosito Con Breed la flea Breed la flea Stupido Perché veramente Mi ha dato un pesce in testa Per non dire Eh, sì, sì, sì Guarda, schifoso Adesso però devo trovare diamanti Prima di te Perché ovviamente li troverò prima di te Eh, io ho trovato un diamantino Se sei letto Mario, no Non puoi trovare diamanti prima di me Ok Non so se sono stato chiaro Adesso ti devo sconfiggere Perché Oh, guarda, se trovi diamanti E mi uccidi Sai cosa ti faccio? Ah, ne ho solo uno Ah, ne ho solo uno Va bene, va bene Va bene, ok, d'accordo Eh, beh Ovviamente non potrò barare Perché chiaramente Sarebbe molto illegale questa cosa È illegale questa cosa La puoi fare Sì, 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 sì Ma infatti non voglio farlo assolutamente Eh, sai cosa? Io ho trovato anche della neterite Cosa? Eh, ma è vero che è strano Che senso? Come hai fatto? Eh, boh, veramente Cioè, ho trovato un dungeon Che praticamente mi dava la neterite È pazzesco Mi sono fatto l'armatura in neterite Mario, ma com'è possibile? Cosa? Eh Cioè, veramente Ho trovato questo dungeon pieno di cose Veramente tantissime E ovviamente adesso Io posso fare tutte le cose È incredibile Sai che cosa? Cioè, io sono pronto per combattere Fate già Sì Come mai? Tu non sei pronto? Io ho tre diamanti Ah, perché? Allora ti devo trovare nei tuoi vari tunnel Aspetta Nasconditi bene Perché ovviamente Eh, devo Eh, sì Allora, io ti sto cercando ovviamente Pian piano Perché Non mi troverai mai Alza il volume nella testa Tutto quanto su Non mi troverai mai Va bene, ok Non ti troverò mai Basta che Basta che Adesso ti cerco un attimo Comunque io sto vedendo il tuo nome Non per dire Cioè, nel senso Come fai? Eh, come, come faccio? Scusa, sei sciocchino? Lo sai che Qua su Minecraft Si può vedere il nome Eh, vabbè, è vero Eh, sì Dai che Guarda, Bride Laflea Quanto ti sto odiando Sto diamante del cavolo Io veramente Non ti sopporto più Mi ha dato un Niente Ehm Certo che Bride è proprio scarso Manco ho trovato i diamanti Guarda, ho già trovato Eh Mario Ti sto trovando Cioè, ti sto cercando Perlomeno Oh, dove sei finito? Non ti trovo Sto facendo le cose Cosa ti stai facendo? Eh, le cose mie Che cosa vuol dire? Sai che le cose mie Di solito vuol dire qualcos'altro E cosa ti stai facendo? Eh, l'armatura L'armatura Eh, dammi sta armatura Sto scherzando Non ho niente Ho solamente una spada Sai che cosa però? Io non sto più vedendo il tuo nome Questa cosa non è bella Non mi sono allontanato tanto io Ah, ok In effetti In effetti vedo che non ti sei allontanato tanto Mario Cosa? Sai è vero che Sta succedendo qualcosa In questo momento, vero? No Eh, sì Sì, sì, sì Sai che No Mannaggia la gravel Guarda ti stai salvando solo per la gravel Perché ora sono qua Eh, ti sento No, no, no La gravel La gravel Non è possibile Raga, vi prego Mettete un sacco di robe Per far sparire la gravel Tipo nei commenti Bravi Mettete Mettete ancora Che magari No, 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 no Mettete, mettete Mettete tipo Eh, ciao Mario Oh, guardalo Che schifo Mi sta mettendo Eh, 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 eh Eh, ti ho ucciso Eh, ma Mario Lo so che Lo so che non potevi morire Ma purtroppo Io ti ho ucciso Perché a volte la vita Riserva anche questo Per noi viaggiatori Dell'est Ok, cioè Come posso trovare Tutta quella roba È, eh, praticamente Ti spiego È stata una Una cosa veramente Spettacolare Praticamente Un giorno Mi sono svegliato Ma perché non posso Mettere i miei spectator Comunque io sono In mezzo ai boschi Della foresta Quella oscura Non interessava Nessuno Comunque Giusto per farti Per dirti questa Ma perché siete Tutti quanti Lava Perché è tutto Buggato Ok, va bene Vi porto sopra Perché evidentemente Abbiamo perduto tutto Amici Abbiamo perduto Va bene Facciamo l'ultimo round Va Però questa volta Sul serio Cioè nel senso Allora, devo dire una cosa Ti devo spoilerare tutto Praticamente Allora, tp Chiocciolata Prima di tutto Praticamente Ho deciso Di dirvi Che È tutto Un hack Totale Questa cosa Cioè nel senso Ho citato Ma come? Brillaflea lo sa Perché mi ha fatto Un coso Che mi ha dato Questo coso Cioè mi ha fatto Un plugin È un foglio Che si chiama diamante Doveva darmi Diamanti veri Invece no Il signor Brillaflea Mi ha dato Il foglio Con il diamante Complimenti Brillaflea Veramente sei Un programmatore Che può andare Alla nasa Cioè hai mai pensato Di andare Alla nasa Hai schifo Vabbè Sicuramente avrai La possibilità Di imparare meglio A fare i plugin Te ne richiederò Altri Così magari Faremo altri video Del genere Se gli chiedi a lui Ti esplode il pc Sì lo so Però intanto Almeno Non lo so Lo prendiamo in giro Per qualcosa Perché evidentemente Ehi Come ti permetti Di darmi i pugni Allora no Fermi Prima di tutto Facciamo un Un duello Allora Slash Kill Finita Siamo morti tutti Sì molto bello È finito il video Ciao a tutti